Tu hai detto una volta che hai fatto per dieci anni un video ogni due settimane, più o meno insomma. Sì, quasi, ho cominciato mentre finivo, c'era la storia delle tesi, quando ho deciso ho cominciato a fare i video e scrivevo io ai musicisti proponendomi, il primo l'ho fatto per Giovanni Truppi che era il mio coinquilino al tempo, che ringraziamo per averti portato qua tra l'altro. E poi insomma ho iniziato a contattare, scrivevo insomma a questi musicisti praticamente pagandogli i video perché poi li producevo io, erano video piccolini però ho cominciato così prima lentamente e poi sempre più... Ma quindi all'inizio a Roma? Sì, all'inizio a Roma. Quando è che hai cominciato a girare a Napoli? Ma in realtà vivevo ancora a Roma quando ho cominciato a girare a Napoli, ho girato, forse diciamo, ne ho girati vari, però poi è stato liberato, quando è arrivato liberato io ancora vivevo a Roma, però insomma scendevo per girare i video. Quindi il video musicale era la strada per fare delle cose e ti piaceva farlo per arrivare al film? Hai detto, cioè lei ha detto chiamiamo Bonifaci, tu hai detto facciamo i video musicali? Sì, io avevo cominciato facendo i corti. Poi i corti, ogni volta devi fare un corto, devi trovare una produzione, devi trovare un budget, era complicato mettere su o ce li mettevo io e quindi... Con i video invece ho capito che potevo fare quello, diciamo, che volevo io, però facendolo pagare ai cantanti, ai musicisti, alle etichette. Questo è il mio obiettivo, sempre per ora facendo dei video narrativi e quindi poi con l'idea finale di arrivare a fare un film. Quindi sempre nell'ottica di non fare il videomaker e quindi di fare le riprese, di fare tutto, ma di fare solo il regista. Quindi di avere scrittura di fotografia, operatore, scenografo, anche in cose molto piccole. E questa cosa l'ho portata avanti, sì, quasi per dieci anni, fino a che sono riuscito a fare il film. Però quindi sostanzialmente sei partito e che in qualche maniera la tua prima attività era cercare un po' di budget e un team per mettere in piedi anche i video musicali. Sì, alla lunga poi è stato, insomma, lungimirante questa cosa perché poi io, il primo direttore della fotografia con cui ho fatto il primo corto, è stato l'operatore del mio film di Ultras e la scenografa, Marcella, del mio primo corto, cioè ho 18 anni, è la scenografa dei miei film. Quindi abbiamo creato un gruppo che piano piano si è composto di vari elementi e siamo cresciuti tutti insieme. Piano piano uno cresce, comunque, che ne so, io ho cominciato facendo i video degli eventi, ti pagavano quei 300 euro, ci pagavi l'affitto, fai lo spot della cosa, cioè qualsiasi cosa. Facevo anche il videomaker e piano piano poi a un certo punto riesci magari a mettere da parte e a concentrarti solo su quello che è il tuo lavoro. A un certo punto, anche con i video, arrivato a un certo punto ho iniziato a potermi pagare l'affitto e insomma fare le birre, che era una cosa fondamentale. Anche con i video, cioè da un certo punto in poi, ci è voluto tanto, tanto, tanto. Quanto guadagna un regista? Ma dipende, perché un regista, cioè, ci sta Sorrentino, che guadagna forse uno di quelli che guadagni più e poi ci sta pure... Se arrivi a un certo punto a fare i film, guadagni bene. Poi dipende... Un avvocato o come una star della trap? La trap? Ma secondo me... Soprattutto... Una star della trap è un avvocato più o meno... Guadagna la stessa, è vero, è vero, è vero, è vero. Non è che c'è questa... Sfera e basta. Eh, non è sfera e basta, è quella che guadagna di più di tutti, quindi non vale. Forse anche più di Sorrentino. Eh, per lì, secondo me sì, forse di più, non lo so. Fabio Volo ha detto che guadagna, fa contratti, anticipi milionari quando scrivi film. L'ha detto l'altro ieri in un podcast. Ci interessa? No, però lo sapevo, lo volevo dire, l'ho detto. Tra l'altro dici in un'intervista che chi fa trap magari brucia talmente tanto le tappe che in realtà non è che arriva a guadagnare così tanto, arriva a fare una vita dignitosa molto presto. No, il nostro ragionamento, questo era un ragionamento che facevamo quando dovevamo scrivere il film, no? Cioè, ok, facciamo un film sulla trap in Italia, che significa? Cioè, che se fai un film sulla trap in America puoi raccontare quella storia, no? La star, le macchine, insomma, la classica storia di successo. In Italia quanto questo successo che viene ostentato magari sui social dai trapper poi è reale? Cioè, infatti questo ragionamento qui è che alla fine che macchina si compra un trapper, no? Lo vedi nelle storie, non la Ferrari o la Lamborghini, sì, compra magari la Mercedes. Ma infatti erano molto divertenti. Quindi, alla fine, più o meno un avvocato. I primi, non so, i primi video della Dark Polo Gang, no? Che sono stati forse i primi in maniera così mainstream a fare quella poetica lì, che erano tutte macchine noleggiate per tre ore, no? Ma in maniera molto spudorata e esplicita. Cioè, non c'era più la finzione di avere, ma che non so, facciamo, diciamo delle cose a caso. Ed è un'estetica abbastanza interessante da questo punto di vista. Sì, sì, super interessante. Nella trap forse loro sono quelli che più hanno creato un gioco, insomma. Esatto, totalmente caricaturale dall'inizio. Tu mi sembra una volta, in un'intervista, hai detto che quando sei andato per la prima volta a parlare con Netflix per il film, vi siete trovati in qualche modo in parte sulla stessa linea, perché tu l'hai già abituato a parlare di marketing fin dall'inizio per i video musicali. Quindi non è stata una cosa scioccante per te. Cioè, invece, chi non è per niente abituato è che quando va a fare quel lavoro lì, cioè quando va a fare quel colloquio lì, dice, però io faccio un'altra cosa, non faccio questo, no? Questa capacità di lavorare anche con quell'aspetto della creatività, con quell'aspetto dell'arte e della creazione di film, di sceneggiature, in qualche modo scendere a quel compromesso lì. Intanto la parola è brutta, però è il compromesso. Quanto serve? Perché se no uno dice, ma io faccio solo cose belle, per questo che non riesco a lavorare. O anche quando non hanno ragione hanno i soldi. Quando non hanno i soldi. Non hanno ragione, magari hanno i soldi, però. Allora, questo è un discorso che, diciamo, a me mi prende particolarmente, perché io ogni giorno cerco di, in qualche modo, combattere contro questo sistema, cercando di fare la cosa mia, però con i soldi loro, no? Quindi è chiaro che, come in tutti i lavori, alla fine poi è una cosa che ti devi conquistare e che ti devi conquistare con tutte le armi che hai a disposizione. Se pensi, appunto, diciamo, io guardo le cose più, agli autori, ai nomi più grandi del cinema, come Corsese, come Paumbach, che fanno il film su Netflix, fanno quello che vogliono loro, no? Gli danno 500 milioni di dollari, quanto costa? Va bene. Allora, per me quello è l'obiettivo. Raggiungere quell'obiettivo, cioè, significa fare un percorso che dura tanti anni e, insomma, la libertà di dire quello che vuoi e di fare quello che vuoi te la devi conquistare costruendoti un pubblico e dimostrando che le tue cose interessano le persone. Però un po' in tutti i lavori, comunque. In tutti i lavori, assolutamente. Sì, un architetto che riesce a fare, insomma, i suoi progetti. Solo che di solito negli altri lavori è dato un pochino più per scontato dall'inizio, perché è considerato un lavoro, cioè tu devi fare delle cose, farti pagare in qualche modo, invece nella parte artistica c'è sempre questa idea di purezza, per cui, eh, ho capito, però io non voglio fare quella cosa lì e allora non lascio. Però nel cinema ci sta il cinema d'autore, c'è il cinema commerciale, c'è il cinema nettone, c'è il posto al sole. Ci sono anche una marea di film che vengono prodotti in Italia che non vengono visti neanche una volta, però c'è un sacco di film d'autore che però non hanno nessun tipo di pubblico di nessun genere. Sì, magari ci sono film che vanno ai festival e fanno un percorso nei festival e quello è un altro modo di arrivare poi all'obiettivo. Se tu magari vinci al festival piccolino, poi dopo ti chiamano al festival più grande, vai a Locarno, poi vai a Venezia, se vinci a Venezia per dire e poi allora aspetta, forse questo regista facciammi fare quello che vuole, perché è bravo, perché ha vinto i premi, perché... Quindi ci sono vari modi, ci sono vari percorsi per guadagnarsi questo. Per uno sceneggiatore il discorso è un po' diverso, chiaramente, rispetto al regista. Ma i video di Liberato li scrivi tu? I video di Liberato sì, quasi tutti. Quasi tutti i video che ho fatto li ho scritti quasi tutti io. E com'è fare video con un budget comunque importante come quelli che utilizzate? Volevo parlare un po' di Liberato. Liberato. No, Liberato, Partenope è, se non mi sbaglio, uno dei video più costosi, video musicali, più costosi degli ultimi anni. L'hai letto da qualche parte? L'hai detto tu in un'intervista? L'hai detto tu in un'intervista? Sì, è costato tantissimo. Quanto, quanto, quanto? No, non lo voglio dire quanto è costato, perché è poco elegante, poco elegante. No, non si dice, non si dice. Però, no, a parte il numero, quanto in più di un video, perché quelli di Liberato già sono video a budget molto buono, no? Cioè potevate fare più o meno quello che volevate. Rispetto agli altri, rispetto alla media, già di video con un budget buono, quanto per? Ma è sicuramente il video più costoso che ho fatto io, ed è tipo dieci volte rispetto a quello che oggi può fare una major, cioè che ti può dare il budget di un video grosso, di un artista grosso, no? Per dire, però, insomma, perché comunque, perché, insomma, il progetto Liberato è un po' diverso da tutto, e perché fondamentalmente siamo noi, il progetto Liberato si autoproduce, e quindi abbiamo i soldi per farlo? Sì, no? Ok, abbiamo questi soldi, vogliamo spenderli tutti per fare un video? Sì. È quello che abbiamo fatto. Anzi, senza averceli, perché in realtà era l'anticipo, cioè dei soldi che ancora non avevamo, ci siamo fatti anticipare, e abbiamo speso tutto per fare un video. Perché ci divertiva farlo? Ed è con Liberato, abbiamo, fin dall'inizio, siamo partiti proprio con l'idea di divertirci, di fare quello che volevamo, senza porci limiti, e quindi ogni volta ci ricordiamo che sì, lo possiamo fare, se lo possiamo fare, facciamo. Ma questa è una domanda che farebbe lui, però effettivamente, dal momento che non fai live Liberato, ce ne fa pochissimi, o comunque non è quello, e di solito l'industria della musica funziona nel momento in cui fai live, non è che funziona con Spotify. Dove è arrivare i soldi di Liberato? No, funziona anche tanto con Spotify, con il digital, cioè con tutto quello che viene dalle visualizzazioni, dagli ascolti, che comunque quando tu cacci un disco nuovo, cioè quando cominci ad ascoltare il disco nuovo di un autore, in realtà poi ti rimanda anche alle cose vecchie, quindi i video, i pezzi che sono sulle piattaforme, su Spotify, eccetera, da tot anni continuano a fare milioni di visualizzazioni, quindi continuano ad arrivare ogni mese, tot soldi che poi ti faccio. E spendete tutti per una barca a cabri, dai faraglioni a fare un video con la camera in acqua. Va bene, allora, visto che tanto è una domanda di rito che ti hanno sempre fatto tutti, che bisogna sempre fare, ma non la posso, cioè chi è liberato basta, però la cosa che invece a me continua a incuriosire è perché è passato quel momento lì del chi è liberato e chi è liberato, no? Però io non so quanti siete, non so quante persone ci siano, però tutti questi anni, a rimanere impassibili, sempre che non sia mai uscito nulla, magari adesso gli ha detto i lavori, lo sapranno e pazienza, è bene per loro, però, cioè, come è figata? Cioè, mi sembra una cosa proprio bella, divertente anche per voi. Cioè, il fatto che veramente, alla fine non è che dopo qualche anno è venuto fuori, c'è stato un momento in cui avete resistito un po' di più perché la pressione era più alta e poi comunque ve la siete giocata così. Sì, siamo stati, in realtà poi questa cosa di chi è liberato, cioè, è una cosa che è dell'esterno, che si vive, chi se lo domanda. Io lo so, chi è liberato, per me è una questione e noi non l'abbiamo mai vissuta come una questione, cioè, non siamo mai andati in realtà dietro a giocare con questo elemento dell'anonimato. L'anonimato è stata una cosa che è nata per un motivo preciso, sperato, che all'inizio ha detto io voglio rimanere anonimo, punto. Ho detto, e io quando lui me l'ha detto la prima volta ho detto ok, vabbè. Però non era studiato. Però resistere, tenerla comunque, soprattutto nel momento delle pressioni, è stato, cioè, mi dà l'idea che da dentro sia stato molto divertente. Molto. Molto divertente. Questo è quello che mi è sempre piaciuto. Però la cosa è che in realtà siamo stati bravi a mantenere più che la questione dell'anonimato e proprio a non svendere il prodotto. Quando c'è una cosa che fa il botto e quindi al centro dell'attenzione mediatica di quel momento devi sapere che se vuoi portare quell'attenzione a lungo non ti puoi sputtanare e svendere. E quindi siamo stati, in realtà lui è stato molto bravo a dire tanti no, cioè, offerte, di qualsiasi tipo, anche in... Ha studiato business? No, però alla fine... Ha studiato da Martin Margiela perché è l'unico altro che mi viene in mente che abbia effettivamente resistito fino alla fine. Margiela, che non c'entra niente con la musica ma con la moda, però lui ha fatto il suo giro, non si è mai fatto vedere, non ci sono foto, non si sa chi sia, poi in realtà quelli che ci sono dentro lo sanno e questa era solo un'analogia con... Però appunto deve essere stato molto... Ho sempre pensato che sia stato molto divertente e sia ancora tuttora molto divertente quel progetto per chi lo fa. Sì, sì, questo sicuramente è una delle cose più divertenti. Eh beh, ci credo.